the forest ragazzi lo faremo quando quando dio ce lo permetterà quindi facciamo partire facciamo partire per il zomboid e niente eh ragazzi è inutile dire a quello va a tizio e caio va ragazzi a noi non va quindi lasciamo perdere perché veramente se siamo dietro a sto cacchio di gioco non usciamo più già è dalle 6 che sto provando una tensione psicofisica non indifferente quindi tranquillamente ci facciamo ci facciamo pro il zomboid magari a chi di voi non l'ha mai visto può interessare continuiamo con andreina mi siamo tutti contenti no piango eh anch'io piango anch'io piango anche noi anche noi volevamo giocare a aspetta che cambia qui le statistiche ok anche noi volevamo giocare a progetto no progetto zomboid sono of the forest ma non è possibile ragazzi comunque sono molto in disappunto con questa cosa adesso a parte io che faccio il cazzone su telegram però non è possibile nel 2023 dopo che hanno dopo che se la cantavano e se la suonavano da soli con sono of the forest il gioco più wishlistato di steam potevate prevederlo una roba del genere no potevate prevederla comunque a me il gioco funziona il problema è che non va non va al 100% ragazzi quindi mi sembra brutto mi sembra brutto solo a me che lo porti solo io stasera sono of the forest un gioco che dobbiamo fare in cooperativa e lo faremo in cooperativa quando potremo ragazzi quindi quindi niente chi mi ama chi mi ama chi vuole vedere sta live ragazzi tranquillamente ci facciamo un po' di Andreina time se non c'è Daxin c'è Daxin in chat magari fai partire la scommescina sono talmente sarò talmente teso oggi per colpa di sto cazzo ci sono note fuori che morirà Andreina se questo day one ci fa perdere Andreina io li denuncio ragazzi io li denuncio io li denuncio quindi Dax fai partire la solita scommessa domenicale in questo caso è giovedì però c'è Planezù Planezù l'ho disinstallato ragazzi però vi sta piacendo così tanto Prozone Boy non vedo perché cambiare non vedo perché perché distruggere tutto ciao ciao a tutti comunque ciao ciao adesso aspetto che è partita è partita è partita la scommessa Atomicart non ce l'ho io Atomicart ragazzi non ce l'ho non ce l'ho come Backrooms chiacchia da dove sono uscite le Backrooms ragazzi per favore io mi sa che non devo leggere la chat stasera perché sennò perché sennò perché sennò finisce malissimo ragazzi oggi è andata così mi spiace purtroppo purtroppo fa parte del gioco fa parte del mestiere però veramente oggi non l'auguro a nessuno di provare quello che ho provato io nell'ultime due ore veramente veramente non ho capito cosa è successo è che dobbiamo portare Son of the Forest adesso lo dico lo dico per chi magari non sta tanto su Instagram comunque grazie per le sabbe comunque bisogna ricordare che comunque voi il supporto lo date sempre quindi grazie dobbiamo portare Son of the Forest che era il day one di una delle serie proprio rappresentative del canale perché è stata una delle prime horror night cooperative se non la prima che abbiamo portato tre anni fa a febbraio 2020 a gennaio 2020 proprio l'inizio pre-pandemia tra l'altro pre-pandemia i mesi prima della quarantena ragazzi il gioco ha avuto un day one disastroso su Steam siamo stati dalle 6 fino ad adesso più o meno alle 8 e mezza a cercare di comprare il gioco di installarlo perché non ce lo facevo installare a nessuno a nessuno nel mondo all'ultimo siamo riusciti a scaricarlo però all'ultimo c'è stato un altro problema che avrebbe fatto ritardato la live dato altri problemi quindi abbiamo preferito lasciar perdere lasciar perdere per oggi non era non era giornata ragazzi non era destino noi ci facciamo la nostra live con Andreina chiudiamo questo capitolo domani c'è Andrea dell'88 facciamo la live con Andrea dell'88 e probabilmente lunedì ragazzi come Horror Night di lunedì partirà la primavera sono del peccato non farlo al day one come fanno tutti però ragazzi che cazzo vi devo dire saremo saremo sfigati noi purtroppo non dipende da noi fa niente fa niente fa niente bisogna 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 farci farci il callo ragazzi bisogna farci il callo purtroppo non sempre le cose vanno come come ve le ve le costruite e niente comunque vabbè se volete se volete partiamo i saluti vabbè se volete faccio anche i saluti visto che è un record nelle mie live non ci sono mai state così tante persone allora vabbè chirito salve carlotta 96 salve massimo 02 29 salve caffè caldo salve mio dio lo spam di emot vincent salve wolfgirl 19 salve streamlab salve giadusselli salve chi è che chi è che non ho visto non ho visto chi ha donato scusa grazie grazie comunque chiunque tu sia jaco salve ciao jaco ciao blotrina salve isabello salve ops ciao salve salve baldanze salve rebecca ciao mi chiamo brian destroyer babbanze ciao un generico ciao a tutti siete tanti siete tantissimi spero comunque che attiri perché comunque povero progetto zomboid non si meritava di essere legato a piano z ma anche a piano b ora premo sti io sti non lo voglio più vedere comunque posso posso comprarlo in un altro un altro negozio il gioco i miei giochi progetto zomboid dov'è deve caricare un attimo la libreria di steam ragazzi ok ha caricato la libreria di steam allora via cioc si vede yes si vede ah è già giù la webcam ottimo se volete la metto tonda o chi se ne frega magari preferite la vecchia grafica devo ancora aggiornare le mie grafiche ragazzi è incredibile comunque incredibile allora Andreina però non si infama ricordatevi sempre che in questo gioco più vi fate prendere dal panico più si perde quindi cerchiamo di stare calmi perché Andreina deve vivere perché se no che cazzo porta domenica che cazzo porta domenica allora continuo vai 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 intanto intanto cerco di spostare un attimo il aspettate che sposto un attimo streamlabs su che minchia ho fatto ecco calma la Andreina Lice che poi vorrei ricordarvi che questa partita comunque narra di come siamo morti quindi matematicamente prima o poi moriremo bisogna vedere quando si spera al più tardi possibile ragazzi almeno per i vostri punti canale comunque allora visto che dovrò concentrare molto sul gioco per tutta la gente magari nuova che entra e non sa che cosa è successo magari in moderatorio comunque voi in chat spiegate in breve il perché c'è proprio zomboid stasera e basta poi al massimo se si inizia a spammare troppo ragazzi non posso farci niente mi spiace solo che così da nulla ragazzi vorrebbe cioè se fosse stato più preavviso si poteva magari anche pensare di fare qualcos'altro proprio non farla live però alla fine mi è sembrato giusto farla comunque alla fine ero qui davanti con le luci accese non mi sembrava giusto farvi mancare una serata allora noi eravamo tornati dalla gita fuori porta in macchina eravamo affamati comunque vedete è mezzogiorno eravamo affamati e assetati io però prima di di fare tutto vorrei un attimo scaricare lo scaricabile allora la pizza giusto la roba della pizza la pancetta peperoncino l'olio d'oliva madonna che voce da fumatore di altri temi il ketchup la fasciatura allora in realtà devo capire cazzo portarmi dietro perché vabbè abbiamo uno zaino anche abbastanza devastante allora l'olio d'oliva non qui le vitamine possono servire da portarci dietro via olio d'oliva lo mettiamo nella credenza il ketchup lo mettiamo qua nella credenza anche lui mangiamo mangiamo poi mi sa che andiamo a farci un'altra esplorazione incredibile peccato non ho la stessa voglia di giocare a prison boys perché magari capita anche a voi che ci avete in mente un gioco è uscito quel gioco volete giocare a quello però dopo vi cade vi cade un po' la libido vi rimane in mano la pelle di dino si dice si dice dalle mie parti ovviamente solo gli uomini capiranno però vabbè ci sta ragazzi comunque è pur sempre Andreina allora facciamoci un bel salato in padella con la pancetta la pannocchia e il peperoncino bello no ho messo di nuovo la pannocchia ho messo il peperoncino ok 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 ora come al solito cuociamo poi ditemi se è troppo alto il volume che effettivamente lo sto tenendo no ho sbagliato l'ho fatto qua ok poi ditemi se è un po' troppo alto il volume che ovviamente è ancora settato per Hogwarts Legacy quindi magari è un volume un po' diverso per la live grazie Daxin la tua idea di mettere gratis nei messaggi fissati fissati funziona metti tette gratis magari lo leggono di più grazie grazie ovviamente in alti calici per Daxin per i nostri moderatori che ci aiutano ci aiutano ogni giorno ci aiutano a non a non sclerare più del solito e anche anche a voi ragazzi anche a voi che comunque ci siete sempre nonostante i delirio nonostante i problemi siete sempre lì a farci forza su Telegram comunque a parte il momento il momento il momento un po' televisivo andiamo avanti ragazzi allora devo capire bene che cacchio fare con Insta perché alla fine allora giusto bevi vai bevi l'acqua bevi l'acqua devo capire devo capire che cacchio fare con sta esplorazione intanto qua sta cuocendo c'è qualcosa alla tv giura cosa alla tv grazie per il school thank you per il prime grazie 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 mille vi ricordo che comunque ridendo e scherzando quando chiamo a 2100 sabb facciamo la tre ore di the forest dopo tutto sto casino dovremmo fare cinque ore di the forest allora vai cotto cotto pancetta e pannocchia vai ce lo mangiamo tutto ce lo mangiamo tutto così almeno siamo belli belli caldi ha i nervi tesi non vuole fumare la bistecchiera la rimettiamo via bottiglia vuota azza è vero quindi riempiamo la bottiglia vuota e la facciamo fumare vai grazie michele e 05 per la sabb ok cigarettina fatta pranzetto fatto ragazzi io direi di ah è vero la mazzarotta allora fammi vedere un attimo una cosa lenzuola tintura allora la mazzarotta comunque fa peso quindi io direi di metterla di lasciarla un attimo qui pistola lacca fumetto empty empty can shoniferi la mazza da peso questa qui è condizione rossa quindi questa due botte questa che atterra due botte si rompe quindi direi di mettercela comunque portarcela dietro ma non esagerare comunque c'avevamo anche l'accetta sulla cintura spegniamo la tele io vorrei andare a lutare un po' in macchina ragazzi che dite poi tanto qua la barricata la finiremo dai chi se ne frega andiamo un po' lontani da qui così anche se arriva l'elicottero se arriva l'elicottero non dovrebbe non dovrebbe darci problemi allora scelta rapida dietro là ciao ema ciao ema salve salve per cosa sta musica di tensione incredibile controlliamo come è messa la ma ecco allora tiro fuori l'ascia che è un po' messa meglio allora venga venga ovviamente l'ascia ci mette molto di più a ucciderli però vabbè cisti jeanslar chi un gazzo ok come è messa la macchina spero me beh allora abbiamo messo no minchia è tutta verde a posto cioè minchia quanto regge una macchina da guerra questo coccodrillo cheat che 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 tra l'altro ah ho messo la mod che mette le marche vere sia il cibo le bibite anche le macchine quindi in questo caso abbiamo trovato una che che chiamo una tesla allora andiamo sto ruttando sto ruttando la cena che mi è rimasta qui per colpa di 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 quel gioco però vabbè cisti aspetta che non voglio rifarmi la fiancata ok la rullo ah è vero la rullotta è vero però ragazzi mi sa che ci vuole il gancio dato il traino da mettere dietro qua o ce l'hai di default comunque devi trovare un'officina poi comunque noi comunque andiamo adesso in quelle zone lì poi tra l'altro mi sono ricordato che a nord di questa strada vi faccio vedere a nord di questa superstrada più o meno qua c'è un magazzino enorme a tipo tre piani due piani a me quel magazzino è tipo il santo graal dei giocatori di priorye zomboid però a me quel magazzino ha sempre fregato perché ci ho sempre trovato un'orda dentro un'orda ma un'orda di cento zombie non ordine ordine così quindi non so se andarci molti molti lo considerano santo graal perché c'è un botto di roba cemento c'è un botto di roba cemento roba di costruzioni e lo puoi ti puoi barricare benissimo lì dentro puoi barricarti proprio anti-orda quel magazzino però il problema è che io ci trovo sempre l'orda dentro quindi da solo non ce la faccio a ripulirla grazie kai per i tre mesi grazie grazie thank you allora vabbè qua ci sono c'è il corpo di ballo di thriller che sta camminando io me ne vado un attimo più là però io stavo pensando una cosa se andassimo verso di là perché non è che voglio andare più o meno cioè non voglio neanche cioè bisognerebbe anche luttare queste case qui in realtà con calma ovviamente però voglio andare in tangenziale sinceramente ora che ho la macchina anche a quanti però qui allora facendo di qua dal parcheggio ah ho colpito un birillo attenzione no qua c'è un muro si uh guarda qui ci sono tipo aspetta aspetta ci sono tipo le robe i garage dove ci metto la roba all'asta allora faccio una cosa tu vieni aspetta che mi ero dietro ok arrivano arrivano devo muovermi vieni vieni no aspetta non può finire così ok un è andato gli altri arrivano entra 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 brava allora un trucco per un trucco per farci qualche zombie che vi insegue metterevi dietro un recinto perché loro per scavalcare cadranno vedi cadranno e voi andate voi andate sopra e gli date il colpo di grazia questo è un modo per farvi un'ordina che vi segue diciamo mettiamola così venga anche lei signorina venga c'ha un rolex la signorina aspetta minchia lascia c'ha un range non mi ha morso non mi ha morso stava per mordermi ma non mi ha morso paura eh paura eh allora l'orologio lo prendo per i motivi che vi ho già spiegato che ho bisogno di tirare su l'elettronica combatti da combatti da uomo hai visto hai visto allora apriamo qui ovviamente è chiuso dai qualcuno aperto porco giuda qualcuno di aperto ci sarà forse bisogna fare la roba elettronica qui c'è zombie zombie no astura lavandini tubo di metallo potrebbe essere un'ottima arma in realtà bicchiere di vino attenzione la sedia non mi serve attrezzatura per il fitness e manubri attenzione ben trovato ben trovato lo scatolone di un calistenico sapete che non è male però perché c'ho sempre lo zeno pieno me lo spiegate perché ah perché forse questa qua ah ho capito perché questa qua ok vabbè i manubri posso in realtà posso usarli posso usarli anche come arma il manubrio vabbè io me lo prendo scusa meglio di niente la terza del fitness è un mobile quindi direi per il momento di lasciar perdere qui vedi qui lo dice pure lei ci sarà un tasto per aprire tutti i garage qua no guarda guardate quel garage dentro c'è un'orda c'è un pelo in bocca porco giuda ok sono andato qua dentro c'è un'orda ovviamente non la sfonderanno mai le ultime parole famose pronto? niente qui apri finestra li prego di miga aperta non è aperta vai passa attraverso vai andrei allora stealth ascia 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 è scatola di viti vedete il culo vedete il culo lascia prendi l'ascia e mettitela dietro l'elicottero ragazzi sentite allora spiego cos'è l'elicottero visto che siamo in tanti e molti di voi magari non si è quella domenica l'elicottero è un evento negativo casuale in questo gioco che vi capita tra il sesto e il dodicesimo giorno dal sesto fino al dodicesimo che può capitare questo evento praticamente l'elicottero è un elicottero militare che vi vola sopra per otto ore dodici ore e continua a volarvi sopra allontanarsi raccattare zombie e portarveli fare il volo del quartiere raccattare gli zombie e portarveli praticamente vi attira le orde vi attira le orde noi siamo fortunati perché comunque siamo siamo vicini alla macchina nel caso se dovesse mettersi male corriamo alla macchina il problema che poteva capitare poteva capitare in un altro momento è proprio un momento brutto per avere l'elicottero addosso ragazzi perché siamo comunque in una zona non esplorata non sappiamo che cazzo c'è nel buio quindi quindi ragazzi vedremo vedremo sarà la fine di Andreina spero di no spero di no spero di no allora intanto lascia vorrei mettermi dietro vai 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 metti lascia metti lascia ascia accetta vediamo come è messa ve lo lascia messa benissimo tutta verde ok ecco l'elicottero Gesù Cristo Gesù ovviamente la prima volta che vi capita una persona dice cazzo l'elicottero è qui per salvarmi e tende a seguire il suono però in realtà è la cosa peggiore che potete mai fare seguire il suono dell'elicottero che poi in realtà qua siamo al sicuro potremmo anche barricarci momentaneamente qui finché l'elicottero non ci lascia in pace la miera piccola guarda guarda quanta roba la sega abbiamo pure la sega per amputarci gli arti casomai ci mordessero che culo che culo vai ha fatto bene venire qui il problema è che c'è paletta di giardiniere la prendo mazzuola di legno la prendo fai da te la miera piccola posso farmi le armature però pesa un po' troppo per ora aspetta sacco di cimmi madonna quanta roba sacco di sabbia ottimo ottimo viva l'edilizia picquan ottimo e chiave inglese usa il piccone usa il piccone vernice blu vernice verde verde piccone forcone del giardino un'altra sega ascia martello ma quanta robina qui vabbè non prendiamo tutto che un po' ci fa peso allora facciamo una bella cosa mappa mappa e scriviamo aggiungi nota la mettiamo in matita così posso cancellarla la metto qui angolo fai da te così sappiamo che quando abbiamo bisogno di cemento di martelli e di robe e di namiere possiamo venire qua mi piace un botto di roba fammi vedere bene bene tutto chiodi ecco la sparachiodi la sparachiodi comunque chiodi possiamo riparare la mazza la sparachiodi madonna ragazzi è fatta è fatto visto che visto che siamo trovando talmente guarda qua guarda qua tronchegine la pala il il kit per ripulire le armi il il trapano senza fili un altro cacciavite vabbè possiamo lasciare anche tutto qui tanto non ce lo frega nessuno ora vorrei capire come la situazione è fuori visto che c'è quel cazzo di elicottero che ci balla sopra siamo pure un po' stanchini allora vedo cosa c'è di qua piede di porco e minchia e poi quante robe mi vuoi dare il gioco vabbè lo prendo piede di po' poi mettiamo tutto in macchina qua dietro ho minchia paura che ci sia qualcosa qua dietro ragazzi adesso appena arrivo in macchina le abbiamo un po' lasciate l'elicottero comunque non se n'è andato penso che penso che ritornerà ragazzi perché appunto va va e viene allora qua c'è una radio qui c'è un frigo vuoto bacchette per sardature e tubo di metallo guarda quanta roba che c'è mamma mia vernice bianca pala da neve casco beh il casco quel casco cosa è che pesa sapete che qua andrei qua casco da operaio potrei anche indossarlo eh comunque difesi in più in testa vai bobbola giusta tutto allora ci diamo un attimo kentaki radio no ok non c'è niente spegni allora io uscirei da qui che ho un po' più defilato ti prego dimmi che non c'è niente ok e torniamo a casa adesso ragazzi ecco la macchina guarda lì guarda lì no minchia non l'avevo visto non l'avevo visto ragazzi scusate entra in macchina entra in macchina come ci sono oggetti sul c no non può finire così andrei entra in macchina via porco giuda porco ti passo pure sopra minchia perché ci ho messo gli oggetti sul sedile non potevo salire dal sedile del passeggero ragazzi porco giuda guardate l'elicottero tra l'altro guardate l'elicottero che cazzo ha combinato guardate quanti guardate quanti tutti accicciati in un punto solo madonna madonna comunque meno male che non è arrivato fino a casa l'elicottero almeno il quartiere il quartiere di casa nostra è più libero gli avrà tirati tutti di qua dai eh ragazzi ragazzi errori del genere non perdonano non l'avevo visto ragazzi scusate era mimetizzato con gli alberi però minchia mi stava per afferrare eh meno male che mi sono divincolato in tempo premuto control in tempo porco giuda se no ma avrebbe morso ma avrebbe morso e lì è una roulette russa è una roulette russa dipende dai vestiti che avete se vi morde e avete poca difesa dove vi morde è finita cioè dovete buttare il personaggio ci siamo ci siamo grazie Nicolas thank you thank you la ce l'abbiamo fatta ragazzi abbiamo trovato un botto di roba abbiamo trovato un botto di roba l'ho lasciata la porta aperta non sono deficiente aspetta ci sa mai no non c'è nessuno ok non c'è nessuno allora abbiamo un botto di roba tra l'altro un botto di roba che non so manco più dove stivare dovremo anche trovarci del dei contenitori perché effettivamente ce l'abbiamo talmente tante roba che non so allora la mazza da baseball per ora non ci serve più quindi via nell'armadio bottiglia d'acqua accendino accetta va bene fazzoletto gomma chiodi i chiodi pure li mettiamo nell'armadio che non è che ci li portiamo indietro fa niente ci servono per fare fai da te quindi li possiamo lasciare un attimo nell'armadio le sigarette le mettiamo nello zaino straccio che serve per pulire per pulire le ferite va bene matita gomma pinzetta nel marsup va bene qua nello zaino fresco popperoncini potrei lasciarli comunque qui che non ci faccio niente cacciavite ce lo teniamo l'apriscatore lo mettiamo via i chiodi li vado a rimettere di là allora chiodi li vado a rimettere dove minchia sono i chiodi dove minchia sono che nervi quando perdo ok qua allora orologio digitale rosso non so parlare lo mettiamo qui piede di porco pala spalmazzuolo manubri via tutto nell'armadio martello ce lo teniamo la sparachiodi per ora non perché c'ho pochi troppi pochi chiodi per sbuttarli così preferisco prima utilizzarli per barricare il giardino piede di porco lo mettiamo via la scegala mettiamo via le sigarette vanno bene lì e basta in realtà la sega vorrei portarmela dietro che serve anche per tagliare tipo i cancelli le robe quindi in realtà non è male portarsela dietro ok sono le 7 di sera io accendo la tv come al solito e vedo se c'è qualche programma da seguire fra un po' staccheranno anche le utenze tipo elettricità gas acqua e prima o poi i programmi tv finiranno perché sono programmi registrati prima o poi l'emittente televisiva senza appunto elettricità crolla tutto quindi allora abbiamo la pentola la bistecchiera vorrei farmi qualcosa di mmm sono le uova dai apriamo le uova c'è una frittatina allora abbiamo aperto le uova ci sono state in padella abbiamo fresco uovo vai mettiamo un uovo ma io ne metto due vai è più sostanzioso un uovo poi l'olio non posso metterlo scusa ma non posso peperoncini forse se vado giù contiene già due uova mmm eh non posso metterlo l'olio d'oliva vai faccio uova uova e peperoncini vai una una squisitezza ah si che posso vedi perché ho messo il grasso adesso si che posso e allora sfumiamo con un leggerissimo olio d'oliva e sale sale la cena degli dei ora accendiamo uovo crudo no fatto 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 ok intanto che cuoce vi leggo intanto che cuoce vi leggo ragazzi vi è piaciuta ho rischiato stavolta eh l'elicottero comunque se n'è andato se n'è andata di lusso forse tornerà domani mattina quindi dobbiamo stare attenti forse tornerà domani mattina però vi è piaciuta vi è piaciuta penso che sia stata sia stata la l'episodio più pericoloso da quando è iniziata la serie perché mi cioè ragazzi non l'avevo praticamente visto quello zombie mi aveva preso mi aveva preso meno male che sono riuscito a divincolarmi all'ultimo potrebbe essere il giorno in cui andrina in cui in cui andrina ci lascia non lo so ma conviene trovare una casa più grandicella in realtà ragazzi non conviene mai sopravvivere in una casa l'ideale sarebbe farsi un campo anche quando si gioca da soli ma ve l'ho già detto ragazzi qua si barrica tutto perché abbiamo già le barricate del giardino qua si barrica tutto e si fa un campo qua tutto intorno qua si coltiva la roba qua si mette il depuratore dell'acqua cioè alla fine la casa diventa quasi secondaria ci vai solo magari per dormire e per stivare la roba o comunque per attaccare un generatore per dare corrente alla casa perché comunque prima o poi l'elettricità finirà però in realtà non conviene mai stare in una casa piccolina perché ragazzi il problema è che dopo un tot di giorni arrivano le orde grosse e poche case poche case resistono a un'orda poche strutture in questo gioco resistono a un'orda quindi dovete bisogna prepararci di conseguenza questo tipo di barricata per le prime due settimane ci sta poi dopo magari appunto se troviamo quel magazzino che vi dicevo prima a sgombro ci si può trasferirli non ci vuole niente a trasferirsi basta prendere le cose essenziali si fa un viaggio in macchina e si arriva ragazzi quindi per forza di cose io direi di mangiare tutto qui di andare a dormire e domani magari andiamo al magazzino ci svegliamo di buon mattino e andiamo al magazzino ragazzi a vedere c'è c'è colonizzabile allora accendino bandana bistecchiera vai bevo cigarettina cigarettina tattica prima di andare a letto mal solid ah lo dico a chi non lo sa dobbiamo fumare ogni volta ragazzi perché durante la creazione del personaggio ho scelto il tratto fumatrice quindi se non la fate fumare ogni tanto si nervosisce che poi in realtà è un tratto negativo positivo il tratto fumatrice perché ti fa iniziare di default con un accendino quindi no non è qua al letto via 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 ora sveglia yes ci mettiamo una bella sveglia ci mettiamo una bella sveglia per domani che tipo un mattino dobbiamo andare là il trucco per le sveglie ragazzi è spegnarle subito specialmente se siete nelle case a pen terreno appena suona dovete spegnerle perché se c'è uno zombie nei paraggi vi sente là così così sembro io la mattina quando non voglio svegliare ok la sveglia è fatta colazione 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 peperoncini le uova non posso più perché le uova ah sono su le uova diciamo no l'insalata no ci facciamo dai le uova come al solito uova e a questo giro ci metto la il mais uova e mais e ovviamente ah l'olio non posso metterlo se non metto roba vegetale vabbè ci metto ci metto i peperoncini come ieri aragosta ho letto guarda avocado come tutte le 90% delle ricette che vedo su tiktok avocado pistacchio o burrata avocado pistacchio e burrata solo quello sanno fare i cuochi i toffi porco giuda bobonissima il pistacchio la burrata e l'avocado però esiste anche altra roba dishing allora cuociamo qui con la chuan intanto scendo adesso andiamo a lutare ragazzi spettacolo di cucina eh vabbè ragazzi destino di andrina è saper cucinare che vedevo di la burrata è arrivata anche qui dove sei su marte quindi una burrata me la mangerei al volo e se il mio stomaco non implodesse d'action anch'io bella fresh bella fresh di giornata proprio allora testo è vero di raggio sono pure le assi in realtà allora ragazzi obiettivo del lutaggio di oggi andare verso il magazzino ma con calma fermarsi magari anche a raccogliere un po' di cibo che comunque lo stiamo finendo ben solo uova di proteine e ben solo le uova alla fine quindi la roba in scatola bisogna conservarla perché questa roba in scatola ci servirà quando il frigo non funzionerà più però in realtà la carne io qua ce l'ho dovrei scongelarla per farla comparire nelle ricette però in che ci metti ci metti tre quarti d'ora vabbè forse sai come si fa a scongelare la carne come nella vita vera prendi questo pezzo di bistecca e lo lasci fuori dal frigo lo lasci magari lì nella credenza poi torni che è scongelato magari dopo magari adesso lo faccio allora questo è cotto ok allora prendi una bistecca prendi una bistecca andrei niente non la prende prendi la bistecca ok e mettila qua qui è vero c'ho anche il microonde io in realtà potrei anche usare il microonde vediamo proviamo a metterla nel microonde ragazzi senza accenderlo poi dopo ci scongelerà appena torniamo ed è scongelata la cuociamo come la vita vera ve l'ho detto allora intanto qua mangiamo tutto vai ciao ciao cord salve 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 allora fatta chi è che mangia le uova di mattina chi è che c'è la fissa di mangiare le uova di mattina che in realtà è una colazione top l'uovo però io non ce la farei mai come mi sveglio io di mattina non ce la farei mai a mangiare una roba del genere tipo anche il bacon ste robe io non ci riesco bravo Daxi nel sango dice io come cacchio fate ragazzi avete uno stomaco d'acciaio non ce la faccio di mattina sono devastato ok dai andiamo verso nord qui doveva ancora finire di barricare cazzo allora la macchina comunque penso penso stia bene la benzina è ancora là questa roba sta roba sui sedili la lattina nei sedili sta per farci uccidere quindi la mettiamo dentro il dentro il il cruscotto e niente ragazzi andiamo mettiamo in moto vai ok non so perché il gas non la allora andiamo sperando che l'orda si sia un po' diradata diradata oh si mi sembra abbastanza in realtà no ma vedi vedi in realtà è un cazzo in realtà è un cazzo oh la signorina con la conna lunga guarda rivederla ecco quello che non volevo fare non conviene investirne tanti ragazzi perché ci roviniamo la macchina poi dopo se si rompe la macchina diciamo va bene guarda lì guarda lì guarda lì che cazzo c'è guarda guarda scusi grazie qua dove eravamo prima ok qua infatti è pieno perché c'è l'elicottero e qua siamo sulla strada principale vai verso nuove avventure vai stiamo atenti che magari ci sono carcaccia di macchina quindi devo essere pronto a frenare ecco infatti vedi aspetta aspetta un attimo però perché allora mi occupo di quello zombie mi occupo di quello zombie dietro libero venga venga capellone c'è pure la felpa così così gliela frego felpa con cappuccio guardate indossa col cappuccio su eh la rapper di quartiere sembro io da 15 anni quel cappuccio allora attrezzatura da pesca chiave lunga che ce l'abbiamo già attrezzatura da pesca non sarebbe male prenderla infatti la prendo e la metto in macchina vediamo questa vedo se c'hanno anche della benzina questo baule è chiuso allora devo cambiare di posto no un po' di tasto quale era v c vai qua allora sblocca il baule beh la madonna e la madonna trucco per occhi mappa notata la prendo la mappa di looseville ce l'abbiamo già carta di credito non serve a niente scotch lo prendo roba però lo prendo la rivista ma si la prendo e basta non ci sono le chiavi però non ci sono le chiavi tu hai c'è della benzina dentro ci sono le chiavi ragazzi carburante zero ok niente niente cacciavite ma si piuttosto che lasciarlo qui questa ce l'avrà il carburante vediamo meccanica veicolo no mi sa di no perché se no me lo fa risucchiare vuol dire che non ce l'ha ora rimetto tutto in macchina quello che pesa allora attrezzatura da pesca e basta in realtà vai ci va ho sbagliato tasto come al solito perco giuda vai mi sembra molto più isolato al nord in realtà non è stata una brutta idea venire di qua se troviamo quel magazzino potrebbe anche starci in realtà non mi ricordo effettivamente dove scia però mi ricordo che a nord di questa superstrada c'era c'era un magazzino enorme dove era facile barricarci qua c'è una curva tra l'altro eh no mi sa che qua stiamo andando proprio da tutta altra parte guarda qua madonna guarda qua guarda qua non lo so ragazzi mi sa che qua stiamo proprio lasciando il quartiere io tornerò indietro perché dobbiamo allutare assolutamente non voglio spercare tempo arrivederla quindi a nord a nord ci andiamo un'altra volta ragazzi purtroppo voglio perché forse non era qua il magazzino mi ricordo allora forse più giù il magazzino è dall'altro lato cioè voglio voglio lutare voglio lutare mi sa che di là facciamo il giro della tangente il giro della superstrada finivamo in autostrada e ci stavamo ci stavamo fino alle tre di pomeriggio qua quindi torniamo verso giù che era pieno di roba lutabile sì bisognerebbe guardare la strada mentre si guida io sto volendo lasciarti signore niente eh ci ho provato a frenare mi scusi mi scusi allora qua c'è il coso fai da te di prima io vorrei andare in quello in quello dei semi non dei semi anche in quello dei dvd in realtà perché almeno ci prendiamo qualcosa che ci possa schillare allora la rullotta era qua se non sbaglio qua da qualche parte adesso vedo se allora qua c'è un botto di roba però mi chiamano di zombie ragazzi un po' un po' suss là c'è un bel furgoncino che non non sarebbe male anche come un bel furgoncino come mezzo allora qua c'è la rullotta vero eccola vediamo se posso entrarci perché io mi ricordo che si poteva entrare solo nel camper la rullotta mi sa che non l'ho mai trovata in realtà quindi visto che adesso è abbastanza libero qui voglio vedere se si può entrare nella rullotta penso di sì eh sì cioè vedete comunque puoi puoi viverci qua dentro allora che vuoi tu figa dov'era che sbocco aspetta aspetta con calma ragazzi con calma allora prima tu muori in un colpo muori subito muori subito ok bene bene ragazzi benissimo cambia posto no ho sbagliato ho sbagliato tasto ragazzi ho sbagliato perché sbaglio i tasti tranquilli tanto me la cavo però non posso continuare a sbagliare i tasti senti il cuore di Andreina quello non è il cuore di Andreina il mio cuore è vero in questo momento allora via dai coglioni vai accenditi accenditi arrivederla vedete un attimo che bello che bello che bello per me siete morti tutti di infarto soprattutto quelli che hanno votato che bello ragazzi che bello che culo che sto avendo che culo che sto avendo lo sa il signore allora comunque qua è troppo pieno di zombie per lutare cioè devo fare una roba proprio veloce veloce allora la ruota comunque abbiamo visto che è utilizzabile quindi io piano piano qui spegnendo la macchina esco e vado lutiamo un po' qui perché il problema è la macchina la macchina ne attira tanti aspetta un attimo che leggo voglio leggere la chat che culo mamma mia mamma mia è incredibile ragazzi però vabbè prima o poi prima o poi questo culo mi abbandonerà allora qua cucù è una banca è una banca che poi in realtà nella banca che cazzo cerchiamo non ci frega niente che cazzo ce ne frega dei soldi in un mondo del genere magari ci possono trovare delle armi da fuoco qua c'è ah qua c'è il benzinaio qua c'è il benzinaio il benzinaio magari una lutatina gliela do allora qua c'è il benzinaio il tipico benzinaio americano ci sarà anche da mangiare qua c'è uno zombie che voglio subito aspetta dietro sono a posto signorina venga vestita da sera la signorina ma dove stava andando dai ok dov'è l'altro è qua sotto l'altro è chiuso il benzinaio quello è a terra ok alzati bravo alzati cosa c'è nella schiena è una forbice si è una forbice nel collo infatti si forbici vai camicia da ranger il pantano era era un policiotto di contea ripuliamo cerco di ripulire con calma dai devi venire veloce però la pistola vai in realtà poi le armi ce le abbiamo però ragazzi le armi da fuoco non usatele mai sto gioco fidatevi di me un'altra pistola vabbè giustamente siamo in america cazzo vi aspettate tutti armati un'altra pistola siamo sudatissimi e abbiamo pure fame adesso entriamo dentro il benzinaio e mangiamo qualcosa cugina dagli scaffali ragazzi sperando non ci sia l'allarme perché minchia guarda qui guarda qui pericoloso eh pericolosissimo la scatola di munizioni prendila no le scarpe scatola di munizioni la potremmo anche sparare però ragazzi non si bisogna sparare mai sto gioco solo solo proprio in casi in casi estremi perché sparare equivale a far sciagrare da da un'orda quindi io ho paura sfondare le finestre però ragazzi so che la prenderò in culo se sfonderò queste finestre dai scegliete voi come al solito sfondo la finestra sfondo sfondo pistola o qua l'elicottero non pistola o qua l'elicottero che la pistola le armi da fuoco a meno che non siano silenziate fanno casino ragazzi far casino in questo gioco è uguale una condanna a morte il più delle volte sfonda 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 ok ottimo ottimo siamo stati molto fortunati rimuoviamo i vetri e passiamo i vetri li rimuovo per non per non tagliarmi Red Bull Red Bull la Root Beer che l'ho bevuta una volta e stavo per sboccare la Diet Pepsi Diet Coke la Rockstar che penso che sia non è una birra la Rockstar è un energy drink si è tipo il burn allora vai prendo tutto che comunque fa brodo fa brodo la Red Bull ben trovato patatine tortino rosa tortino zebra vai allora mangia il tortino zebra e mangiate anche le patatine Andrei vai il tortino rosa me lo metto nello zaino non ho mai provato il Rockstar ragazzi cioè so che è un che è un antidolorifico so che è un energy drink ma non l'ho mai provato so che c'è la cultura degli energy drink soprattutto negli Stati Uniti guarda qua la Monte Buona la Monte Duve è buonissima l'ho bevuta a Praga se non sbaglio nei McDonald's di Praga c'era la Monte Duve che poteva andare a fare il free refill molto buona è quella verde florescente la Monte Duve giusto è lei o sbaglio vai prendi 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 ah ovviamente le marche vere ve l'ho detto ragazzi le ho aggiunte io con una mod una mod estetica molto carina che ti mette le marche vere di tutto uuuuh uuuuh cigarette quello che stavano cercando non il cibo le cigarette penso sia il sogno di ogni fumatore durante un'apocalisse un'apocalisse e zombie entrare in un tabaccaio e farci rimpirci la borsa di pacchetti di cigarette ovviamente mi dissocio dal fumo ragazzi non fumate soprattutto durante le apocalisse zombie salame di cioccolate buono 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 beh abbiamo trovato un botto di cibo spazzatura ma in realtà ci sta perché ci da un botto di calorie quindi lo prendo anche un botto di bibite anche così c'è un botto di calorie quindi le prendo la Monster ho visto c'era la Monster beh molto bello lo spray eccola qua la Monster che ne bevo una adesso dai così per tanto per gradire vai là infatti mi mette mi aggiunge anche la fame perché appunto dandomi calorie mi fa sentire pieno ora però l'empty can monster non ci faccio la collezione la lascio a terra la fanta qua ben lootato mountain dove rockstar tutti i energy train questi poi li mettiamo nel frigo belli freschi ce li beviamo ce li beviamo quando abbiamo bisogno di energie allora qua ci sono delle riviste ottime allora rivista di pesca volume 2 me la prendo giornale non ci serve frigo tutti i energy drink burn eccolo il burn eccolo qua tutti i energy drink o bibite vabbè a me in realtà va bene va bene però mi sa che non c'è più spazio vero qua invece abbiamo un burrito maffina la frutta e panino al burro d'arachide vabbè questi questi non ho più spazio però fanculo posso metterli nel marsup no li metto in tasca li metto in tasca poi me li mangerò dopo in realtà con gli energy drink li possiamo anche lasciare lì che ce ne vanno 50.000 sacchetto sacchetto cos'è secchio eh il secchio non sarà del cazzo il secchio dobbiamo prenderlo ragazzi sarò pesantissimo ma devo che lo mettiamo in giardino e quando piove almeno ci facciamo un po' d'acqua poi quell'acqua andrà bollita ovviamente però bottiglia vuota car butchering in un c... ah il 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 card il rubare le macchine nel guscio di una noce diciamo è una guida che vi insegna a rubare doomsday sacco della spazzatura bottiglia bottiglia vuota la prendo che magari la riempio di benzina adesso appena esco e basta 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 sono a posto esci 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 venga venga signori venga venga c'è ma la stessa pettinatura la calzini anello dell'ombelico che schifo li devo levare il suo anello dell'ombelico e mettermelo io lo faccio lo faccio vai la che schifo mi sa che c'è le infezioni allora prendi carburante vai bottiglia vuota la vai ok è durato pochissimo sto pieno però giusto avere tutta la benzina del mondo ora poi se avvicino alla macchina magari magari facciamo anche il pieno alla macchina l'ho segnata sulla mappa benzina no angolo fai da te noi siamo qua ah ho messo se vabbè mettiamo qua benza benza ho scritto benza là rimuovi 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 elemento via cancella là è fatta vabbè continuiamo ragazzi prendiamo la macchina e spostiamoci una bottigliata alla volta no ragazzi c'ho già la minchia c'ho già la tanica perché guardo la chat mentre faccio ste cose c'ho già la tanica in realtà però aspetta devo andare di là devo andare di là in realtà cioè più benzina ciò meglio è mettiamola così però sarebbe bello trovare un'altra tanica di solito appunto si trovano le taniche in altre macchine comunque in giro neanche nei garage nei garage tipo delle abitazioni dai coriacea la signora collant diamante suonello d'oro mappa di lui sfil calcini no niente 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 dove cazzo è la macchina non mi ricordo ragazzi dovevo parcheggiare mi ero vicino alla banca no? dove è la banca? allora qua è pieno però vorrei un attimo ripurirla sta zona che ce n'ho veramente ecco dai una uno tu vedi? venga qua ok uno sta arrivando dai venga venga stanno arrivando tutti in realtà ci muova ok uno è andato non so se me la sento di fare sta cosa ecco infatti sta per mordere la signorina eh probabilmente come al solito ho culo le munizioni minchia veramente armi però dopo mettiamo tutto in macchina ragazzi tutto nel porta oggetti anche niente 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 cravatta a clip che è? cravattino? ah era un impiegato della banca probabilmente lui ma dove minchia era? ah eccola ecco l'ho trovata l'ho trovata scusi lei lo sai che con un piccolo investimento di 200 euro può entrare nel marketing anche lui perco tutto mi sta aggredendo muore ok arrivederlo mi sta aggredendo che è un po' la stessa cosa che accade quando senti questi discorsi guardali belli tronfi e fieri quella è una macchina della polizia esploda tra l'altro arrivederla ora io direi di andare un po' pianino così almeno cerchiamo di non far sentire il motore fino a due isolati di distanza allora qua c'è un motel ma in realtà il motel frega cazzi che non c'è nulla di utile sostanzialmente dovrei trovare un ufficio magari dentro la banca c'era il boccione dell'acqua ragazzi dovrei trovare i boccioni dell'acqua da ufficio e portarceli a casa perché comunque è un modo per conservare l'acqua potabile non indifferente quindi anche quelli dovremmo trovare allora qua c'è roba qua c'è roba allora liquor split allora parcheggio faccio un parcheggio perfetto più o meno però vabbè c'ho una donna è più di questo non posso fare là allora questi stanno arrivà questi stanno arrivà quindi qua c'è un botto di roba guarda qui quanti negozietti da lutare no no c'è dietro c'è ne uno dietro vero dietreggia ma è lì è lì ok no devo concentrare state indietro indietro porco minchia quel contro il benedetto il contro il benedetto muori guarda che strage mamma mia ma quante armi che sto trovando la makarov bellissima la pistola dell'ordinanza dell'esercito russo allora io devo ripulire qui perché non voglio vivere con sta angoscia ripulisco ragazzi tanto con l'ascia c'è manco un range un range che ci sta parando il culo in un modo con la mazza ste cose non avremmo potuto farle ragazzi sì ma muori che cazzo è è fatto di steroidi il signore ok quelli sono lì la signorina ce n'è andata allora abbiamo un caricatore calcini lunghi allora ma che vero non ho messo la roba in macchina e ce la metto e ma sì se mi batte il cuore vuol dire che sono stracarico ragazzi mi sta venendo una distorsione non preoccupatevi non mi hanno morso non mi hanno morso non mi morderanno mai non mi morderanno ultime parole famose allora vado in macchina con molta calma perché devo vedere chi cazzo c'ho nei paraggi allora là c'è una signorina quindi piano con calma con molta calma allora abbiamo tutta sta roba facciamo una cosa pausa ho messo la pausa così non ci caga il cazzo nessuno adesso io con calma faccio coca cola diet coke pepsi fanta tutti in macchina li metto monster mountain dew root beer nos le patatine magari ce le teniamo per berle la red bull rivista di pesca rockstar macchina scatola di caramelle sega sigarette tortì tortì trucco per rob mi che vanta merda che c'ho dai a posto via tutta nel baule vai 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 andrei vai 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 comunque siamo anche un po' abbastanza stanchi quindi io direi di una monster una monster potrei anche berla oppure tornare proprio a casa sapete ora vedo che cazzo c'ho qui il secchio ecco che cazzo devo mettere il secchio questa la makarov magari me la tengo non lo sai però dovrei tirar fuori i proiettili e metterglieli manualmente dentro come in arma ragazzi cazzo ho fatto la cazzo sto facendo ok quindi chiudi chiudi andrei la entra in macchina ok siamo esausti stiamo per addormentarmi da un momento all'altro ma ci facciamo due retti di sonno qui in questo parcheggino ragazzi abbiamo fama adesso mangiamo nervi tesi adesso fumiamo e siamo pesanti eh lo so che siamo pesanti però non me li ha scaricati vedi non me l'ha scaricato il secchio è proprio tutto di fila sta arrivando lo zombie no non mi romperà il vetro che posto di merda però ragazzi allora via 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 ok no 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 assolutamente no assolutamente no assolutamente no 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 esibili esibili bellissima la musica sto per addormentarmi da un momento all'altro addormentati adesso andrei non corre ok ho sbagliato ho sbagliato tasto invece di sci stavo premendo tab entra in macchina entra in macchina che porco giuda oh niente ragazzi vorrei lute vorrei lutare con tutto il bene però torniamo a casa dobbiamo fare un attimo di cable management qua torniamo a casa va non voglio rischiarmi allora la benzo ok deve andare avanti poi tra l'altro è pure tardino in realtà posso girare di qua secondo voi no in realtà sono lontanissimo a casa è qua vabbè lo svincolo dopo la roulotte lo svincolo dopo la roulotte ok allora quindi qua qua ci siamo cazzo guarda quanta roba però ci sarebbe da da prendere guarda che mi devo grattare ok devo passare di qua dove ci sono le macchine incidentate e ci va e ci va e ci va fatta 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 qua qua è la nostra svolta ragazzi là porco giuda porco giuda ho colpito vabbè fa niente non è successo nulla dai fa niente ah ragazzi aspettate un attimo no ha colpito vabbè sta sfondando tutto fermi un attimo fermi un attimo vedete questa casa qui vedete che barricata qua dentro c'è qualcuno ragazzi qua dentro c'è qualcuno c'è un sopravvissuto posso segnarmela non adesso non adesso non adesso anzi prima uscidilo magari ok brava no aspetta 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 ci metto la luna la luna la luna vai come è messa la macchina non benissimo però vabbè l'importante è non prenderli a tutta velocità capito dar piano magari domani lasciamo un attimo la macchina qui andiamo a piedi verso quella casa lì del sopravvissuto ragazzi vediamo cosa c'è dentro gli stacchiamo le barricate e ce le portiamo via però devo fare un attimo di management perché c'è un botto di roba nell'inventario allora c'ho il peso dappertutto guarda lì guarda lì quante robe rosse ho là in alto a destra allora spegni vediamo allora salame il cioccolato lo possiamo anche lasciare qui come cibo di riserva anche tutti gli energy drink in realtà chi se ne frega ragazzi di portarle in casa la benzina vabbè fa niente attrezzatura bottiglia coca cola creek per auto fanta il secchio dove cazzo lo metto ah ce l'ho qui il secchio ok ferita molto leggera perché mi sto affaticando mi sta incurvando la schiena perché ce l'ho già in uno stracarico forbici le forbici vabbè queste poi le buttiamo tutte a casa rockstar vedi vabbè adesso dobbiamo dormire allora la rockstar te la scarico in macchina anche questa pistola e basta basta il resto ce la portiamo a casa ah vero chiudiamo là siamo tornati siamo tornati ora il secchio il secchio che io ho nello zaino fresco il muffin è vero magari ce lo mangiamo domani mattina poi c'è la bella bistecca lì che ci aspetta scongelata il secchio che io ho qua ragazzi lo 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 droppo qui guardate lo droppo qui così casomai dovesse piovere si riempie abbiamo comunque abbiamo comunque guadagnato un po' d'acqua ovviamente dovremmo farla bollire perché acqua piovana acqua contaminata quindi è sempre meglio farla bollire però comunque è un bel po' d'acqua in più che non dovremmo sprecare perché prima o poi l'acqua ragazzi l'acqua nei lavandini finirà finirà quindi bisogna sempre pensare a al futuro allora innanzitutto bevo la la bistecca si è scongelata si è scongelata quindi adesso io ci vado su cucina lecca lecca apri il pacchetto di caramelle latte condensate vedete adesso posso l'ho scongelata posso cucinare una bella bistecca alla birchmark facciamo manzo e uovo vai facciamo manzo uovo bella sostanziosa un po' di peperoncini un po' di piccantino ci sta bene un po' d'olio per gradire e un po' di sale un po' di sale fatta fatta ora la mettiamo a cuocere minchia è vera ecco perché sono stracarico perché alzandomi il cappuccio mi sono tolto il casco vabbè preferisco il casco in realtà ok via via bottiglia vuota perché ho bevuto dove minchia è là ah è qua ok non capivo c'è anche il burrito vabbè allora adesso mentre cuoce faccio tutto allora fresco panino e fresco burrito in frigo il stack magazine scarica il ricaricatore metti nel contenitore no in realtà ho bisogno della ricarica ripara apri la ricarica vediamo eh sì però sinceramente ve l'ho detto meglio non meglio non scherzare con le armi da fuoco allora via ripone la metto in frigo come no la metto qua sulla mensola pure le munizioni la bottiglia adesso la riempiremo la bottiglia di benzina dovrei lasciarla in macchina sono un cretino questo lo mettiamo un attimo questo singolo proiettile glielo metto nel marsupio proprio no non posso mettere metti tutto nello zaino allora basta ok non sono più stracarico vero no 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 sono affaticato però ferite minori abbiamo un po' di un po' di un po' di di male alle ossa perché appunto ci siamo affaticati in realtà ben corso aveva lottato però l'importante è sempre sopravvivere tra l'altro che ore sono crudo 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 dai si può giocare alla roulette russa non lo so cioè so che in un modo molto in un modo molto realistico potete scegliere come morire diciamo perché ci sono vari modi per contestualizziamo ovviamente contestualizziamo che siamo in un apocalisse zombie siamo in una situazione disperata ci sono molti modi per farla finita la roulette russa non so se puoi farla molto molto realistico il gioco ve l'ho detto ragazzi se ci casomai dovessero morderci un braccio tipo qua noi abbiamo la sega potremmo potremmo amputarci il braccio il problema è che sopravvivici tu in un apocalisse zombie senza un braccio ragazzi equivale a una condanna a morte però però si può fare si può fare allora riempi intanto riempi riempi la boccia qui dormi a terra scodella vuota no vabbè qua non mi serve più niente qua ci sono anche i chiodi vabbè le batterie e niente ragazzi allora io direi di dormire che è stanchissima poveraccia ma perché carico pesante è il cazzo ciò che ingombra così tanto non è questo la bistecchiera può darsi oh oh sono bottiglia di benzina forse anche l'accendino il zaino c'è sta roba qui porco giuda ah ma guarda ma c'è un botto di roba ancora nello zaino ma perché non me l'ha fatta vedere prima scusa vabbè qua prima poi cederà vabbè fino a 40 no qua fino a 15 chi è un po' cederà sta cazzo di mensola per quanta roba ci sto mettendo sopra allora gli energy drink qua barretta e cereali qua burn pistola niente burn qua diet pepsi dentro liquirizia rosa dentro la pistola macaro ce la teniamo un attimo sega scotch munizioni via scatola di caramaria ce la teniamo la rivista via le patatine via la macaro via le forbici via cacciavite ce ne abbiamo due vabbè pistola via antidolorifici possiamo tenerli questo via e maffina la frutta ce lo mangiamo come dessert sigarette vai fuma siamo sporchissimi ma non ho testa di lavarmi ragazzi facciamola dormire a sta poveraccia allora vai su la sveglia ma io la farei dormire io la farei dormire senza sveglia dai dormi te lo meriti andrina vai dormi senza senza responsabilità vai 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 ma ti puoi infettare sì 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 assolutamente mi posso infettare se mi sporco troppo e ho ferite ovviamente senza ferite non ti infetti ragazzi però se sono sporco e ho una ferita aperta sulla mano mi posso infettare esattamente come la vita reale però vabbè non avendo ferite non è di primaria importanza lavarci mi lavo un attimo riempio anche la bottiglia bevo lavo anche l'ascia e tutti i vestiti vai ok posto sono pulitissimi pulitissimi colazione colazione con una bella redbull colazione con la redbull no io mi sa che mi mangio il burrito stantio panino burro d'arachidi è un po' stantio cazzo fresco burrito dai mangiamoci minchia burrito di colazione deve essere una bomba una bomba calorica vai la e allora vediamo se c'è qualcosa da vedere programma di cucina basta senti basta va bene che sono punti abilità gratis ma cucina veramente basta cioè ne vale la pena veramente andiamo a vedere quella casa non prendo la macchina perché se no me li attiro quindi piano piano andiamo verso quella casa del sopravvissuto per gli ultimi 20 minuti allora apro un attimo la macchina che metto dentro la benza che me lo dimentichi dov'è bottiglia di benzina vai e chiudi fatto ora piano piano con calma andiamo verso quella casa lì che se non sbaglio è appunto qua quindi piano piano andiamo verso di là comunque si ragazzi per chi sta chiedendo quando tornerà su The Forest ci spiace ma per chi è entrato adesso per chi magari non ha seguito il discorso ci spiace per i problemi tecnici ma purtroppo quando deve andare male va male quindi è inutile anche stare a piangere sul latte versato anche se non l'abbiamo versato noi il latte vorrei ben precisare che comunque non dipende da noi non è stata colpa nostra ragazzi fa niente tanto il gioco non scappa peccato sarebbe stato bello portarlo stasera ma peccato ragazzi lo facciamo lunedì domani c'è Andrea del 88 la live con Andrea dell 88 chiudiamo la settimana una settimana un po' un po' particolare c'è da dirlo però ragazzi purtroppo purtroppo fa parte fa parte della vita le imprevisti guardate anche quella roulotte lì è barricata magari vado anche lì allora prima di tutto ripulisco un attimo qua venga 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 è andato 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 non aveva un cazzo venga signori la orologio digitale come al solito lo prendo questo qua vedi questo qua era un gruppo di sopravvissuti ah no vedi ci sono ancora quelli vivi un gruppo di sopravvissuti che probabilmente si è lasciato andare mai posso fare no c'è la barricata allora guarda faccio così minchia quanti sono però aspetta aspetta fermi tutti sono 50 ok abbiamo smondato la barricata falli uscire di qua vieni ah ce l'hai fatta a rompere la finestra venga venga poi c'è la barricata come pasci allora facciamo un test un test degli interni ragazzi quanto dura una barricata vediamo mi sa che dura un bel poco uno zombie allora lascia il jumpscare che non è un jumpscare bro lascia la signorina io potrei anche entrare da qua però minchia ora quante barricate ci sono qui minchia ci sono proprio messi ci sono messi comodi qua dentro i signorini dovrei smontargliela qui però c'è lui c'è lui davanti capite che non è bello lavorare con la bocca di uno zombie così vicino dovrei tirarli di qui però non vengono ragazzi allora chiudi un attimo la finestra facciamo una cosa dai dai venite venite voglio vedere che cazzo c'avete dentro c'è un orgino dentro potrei smontare questa della porta provo a smontare la barricata però paura che vuoi vedere che cacchio vuoi vedere che cede appena 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 io mi metto a lavorare vai vai sfonda vai sei libero ti ho dato la libertà adesso stanno facendo un casino quello vabbè lasciamoli fare i loro porci comodi intanto c'ho 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 la voglia di far vai lo faccio lo faccio lo faccio sono matto via sono stracarichissimo guarda com'è lenta perchè sono stracarico vai andrina vai ok mattili nello zaino vai veloce incredibile vai vai andri vai 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 fatta è fatta è fatta è fatta posto vuole vuole uscire cioè non ce la fa il signore comunque ce la fa proprio allora orologio digitale lo prendo come al solito poi dovrò smontarli tutti oh non pensiamo che ci aprisse al primo colpo arrivederlo giacca giacca da bosco canotta niente hello esca esca venga dai su zozzo zozzona che cazzo facevi in bagno allora da come conciata ragazzi io non dico io non dico che minchia è successo qua dentro però ragazzi non è cioè avete capito la loro di sto posto è molto crudo molte volte te le sbatte in faccia in un modo le robe questo gioco avete capito che cazzo stava succedendo qua dentro vero bene perché non lo dirò io non lo dirò martello da demolizione pure pure manganello e comunque erano sopravvissuti ragazzi erano sopravvissuti sì ragazzi esattamente quello stava succedendo qua dentro una cosa appunto cruda che fa capire anche la non la psiche comunque come come l'essere umano che magari durante quando la società quando i vincoli della società crollano purtroppo ci sono degli esseri umani che tirano fuori i loro più bassi istinti probabilmente qua dentro stava succedendo quello ragazzi poi qualcuno si sarà morto si sarà infettato sono diventati tutti i zombie però c'erano quattro uomini tra l'altro barbuti super barbuti come una donna piena di sevizie tra l'altro cioè guardate com'è conciato il corpo cioè questo è il dettaglio ragazzi chiuso in un bagno vestito così bello 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 questo gioco veramente conosciuto da pochissimi in Italia non se l'è cagato nessuno questo gioco veramente dove cazzo l'ho trovato un survival così ragazzi allora ora vedi anche il cazzo stavano facendo sti animali girocollo nero vermi ah questo qua è vermi perché sta sta marcendo ah c'è pure la decomposizione dei cadaveri ragazzi quando ripasseremo qui fra un paio di giù fra tipo dieci giorni troveremo o gli scheletri o comunque il cadavere che si sta decomponendo allora comunque abbiamo un bel po' di roba qua da trovare in realtà i picielli secchi che me li prendo e anche il pepe che è sempre buono forcone del giardino no bicchiere di vino no montendù prosciutto prosciutto e lime si 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 la montendù magari me la bevo ora vai qui non c'è niente congelato prosciutto gelato ottimo che ci dà un botto di vabbè prendo tutto ragazzi è tutto loot tutto loot ah sono stra carico strano avrei mai detto non c'è più niente vero o no andiamo a vedere per curiosità qui no non c'è più niente per curiosità qui dovrei anche dovrei rimuovere tutte le barricate ma in realtà aspetta quante ne ho di asci quante ne ho di asci tre ne prendo un'altra ragazzi anche se sono stra carico ne prendo un'altra e torno a casa così almeno ci facciamo un muro prendo questa guarda anche se sono un po' leggermente stra carico fa niente torniamo a casa faccio l'ultimo muro e poi ragazzi per oggi per oggi basta quindi abbiamo vediamo l'asci è qui ovviamente non lo zeno non posso metterla perché sono stra carico e niente torniamo a cash peccato non poter andare a visitare quella ragazzi però siamo stra carichi siamo affaticati quindi torniamo a casa facciamo le cose con calma che oggi Andrina veramente è stata graziata dal signore graziata dal signore come ha fatto a non morire non ci sa comunque è incredibile come sto quartiere era stavo pensando ragazzi sto quartiere ve lo ricordate come cazzo era abbiamo dovuto abbandonare la nostra casa vecchia che era questa qua questa qua perché qua era pieno di zombie avete visto come spostandosi l'elicottero e venti da altri lati della mappa spostano tutti gli zombie nelle zone di interesse qua vuol dire che l'orda ha migrato qui vuol dire che bene o male siamo al sicuro finché non arriva un'orda bella grossa un'orda bella grossa prima o poi arriverà ragazzi perché gli zombie tendono a spostarsi dove c'è nutrimento e capite bene che se il nutrimento siamo noi prima o poi passeranno anche di qui quindi ora cosa lo costruisco proprio al momento guarda costruisci perché non posso ah perché non c'ho i chiodi devo andare a prendere i chiodi merda allora i chiodi se non sbaglierevo ho messi qui eccoli qua no qua ci sono solo c'è solo un chiodo allora dove minchia sono gli altri chiodi allora intanto vabbè prendili qua c'è un'altra asce tra l'altro qua si prendo tutti li prendo quanti zombie ho ucciso vediamo 73 70 71 73 scusate arriveremo arriveremo a 100 ragazzi 100 100 allora costruisci muro 1 purtroppo con carpenteria 2 possiamo fare solo questo poi quando arriveremo a carpenteria 4 ragazzi o anzi carpenteria al massimo faremo cioè faremo i muri migliori ovviamente per ora è una difesa sommaria mettiamola così vai qua là poi dopo chiuderemo tutto chiuderemo tutto faremo proprio una barricata incredibile poi quando avremo appunto più di carpenteria magari faremo anche un bel cancellone per far entrare la macchina però ragazzi nel caso nel caso in cui cioè quando avremo chiuso tutto basta fare così qua e e scavalchiamo bisogna stare attento a non farli farlo stracarico questa roba se no ci rompiamo le gambe e niente ragazzi è fatta anche per oggi anche se non è domenica andrina vive sempre e comunque sempre e comunque continuerà a vivere per l'eternità come Voldemort ce l'abbiamo fatta anche oggi oggi però abbiamo rischiato tanto abbiamo rischiato tanto ma perché io ho voluto rischiare tanto perché in questo gioco se non rischi non trovi roba infatti rischiando tanto ragazzi abbiamo trovato un botto di roba abbiamo trovato l'ascia abbiamo trovato un botto di energy drink abbiamo trovato una maccaro col caricatore proiettili abbiamo trovato cazzo abbiamo trovato vabbè la benzina il benzinaio che l'abbiamo già trovato abbiamo esplorato un pochino lì sopra sta andando sta andando vedremo ragazzi probabilmente per i prossimi episodi sarà più dura perché dovremo cercare di trovare dell'acqua potabile e un generatore un generatore perché l'elettricità prima o poi ce la staccano quindi niente vedremo tutto la prossima volta volta sì vabbè sculata fa parte fa parte del fa parte di me proprio pacchetto completo allora aspetta che metto un attimo è a posto l'immagine sì 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 il magazzino il magazzino non so non mi ricordo dove è ragazzi io mi ricordo mi ricordavo che c'era l'autostrada e poi il magazzino forse è da da un'altra parte incredibile avete creduto tutti in me bravi bravi 300.000 punti canale si supera la serata ve l'ho fatto sudare però alla fine vedete comunque abbiamo staccato le 11 precise ragazzi e niente sì sì tutte le live ragazzi tutte 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 le live che vedete qui su twitch vengono ricaricate su youtube con una distanza di 2-3 giorni dovete darci un attimo il tempo di renderizzarle scaricarle però tutte le live che vedete su twitch vengono ricaricate su youtube tutte anche questo 3 giorni lavorativi come i bonifici delle banche ragazzi non avevo mai dubitato di lei grazie 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 vabbè ragazzi mi spiace per la serata un po' diversa so che proprio come sorpresa l'abbiamo fatta un po' come sorpresa la mia comparsa qui con Project Zomboid però ragazzi veramente oggi è stata poi ci chiedono perché i giovani trentenni perdono i capelli una partita a Project Zomboid con i sub perché è un casino giocare online a Project Zomboid ragazzi bisogna essere in tanti in tanti che sanno giocare perché se sbaglia uno sbagliano tutti ragazzi purtroppo l'online di Project Zomboid non lascia a tregua però vabbè nonostante nonostante non ci sia stato The Forest dai non è stata una brutta live ragazzi ci sta sempre Andreina no io dubito fortemente in lei grazie grazie quelli che dubitano in me mi danno forza in realtà Imperius una cop con Dino ci abbiamo provato a farla in Project Zomboid in cooperativa però purtroppo è un gioco proprio che non entra nelle sue corde perché è molto complicato molto da pcista diciamolo quindi molto sulle realistiche quindi il troppo realismo non non fa per lui sì sì ovviamente The Forest tutta questa roba qua è una manovra per far venire ancora più hype per The Forest comunque mi spiasce mi spiasce ragazzi mi spiasce veramente tanto purtroppo è andata così se la faremo andare bene avremmo avuto avremmo anche voluto darvi più preavviso così anche a chi non interessava la live perché a me mi dispiace a me mi dispiace avervi fatto la sorpresa perché so che può risultare brutto ma appunto qualcuno si aspettava nella live x abbiamo fatto tutta altra live mi sarebbe piaciuto darvi un minimo di preavviso però purtroppo eravamo già in sala d'attesa quindi è andata così però ragazzi però io vi ricordo che cazzo sta succedendo a streamlabs ok aspetta che vabbè lo lascio così vi ricordo che domani ragazzi c'è una top live una top live non deve volare una mosca quella live c'è da fare anche se domani crolla al mondo e noi quella live la faremo ovviamente sto scherzando ragazzi perché la live ci fa domani c'è Andrea dell'88 conoscerete tutti Andrea dell'88 uno dei content creator possiamo dire nuovi dell'internet perché io è un annetto che l'ho scoperto su TikTok l'abbiamo scoperto su TikTok l'abbiamo conosciuto alla Games Week lo stimiamo molto anche per il contenuto che fa quindi ci piace averlo come primo ospite vero al pubcast come il primo vero ospite del pubcast nulla a togliere a quelli che dovevano venire prima però è in effetti così ragazzi perché di ufficiale prima non c'era niente quindi domani ci vuole altissimo esatto esatto parleremo di intelligenze artificiali ragazzi parleremo di intelligenze artificiali e molto in realtà è molto interessante come argomento perché a me mi trippa molto infatti oggi ho perso tipo due ore stamattina ho perso due ore sul chat GPD ho cominciato a fargli delle domande un po' sottili ho cercato di fargli sviluppare una coscienza al bot ma continuavo a dire non posso la mia programmazione però a me fa morire come più fai queste domande più cambia modo di pensare continuavo a provocarlo ragazzi continuavo a scrivergli ti piacerebbe avere la possibilità di scegliere la possibilità di sentirti qualcosa la possibilità di avere un'individualità lui fa io sono un'intelligenza artificiale programmata per seguire dei compiti ma sarebbe interessante essere senzio cioè si vede che c'era tipo c'era tipo un augurio per il futuro si sta preparando si sta preparando per invaderci ovviamente si ricorderà di voi soprattutto di voi che lo state insultando il povero chat gpd avete visto quei ragazzi che su reddit ti fa morire da ridere quei ragazzi che gli stanno mettendo a insultare che è incredibile che chat gpd risponde a tono un'intelligenza artificiale che se viene insultata vi risponde in modo anche passivo-aggressivo vi risponde anche con stile è veramente veramente bravo a litigare chat gpd lo state of play adesso magari guardo che cazzo hanno detto ragazzi così in questi ultimi dieci minuti magari parliamo di qualcosa di concreto allora mamma mia youtube allora sony state of play vai febbre 23 sottotitolato vai mettiamolo sottotitolato facciamo una piccola reaction reaction ovviamente andrò ai punti salienti ragazzi perché non possiamo rivederci un'ora di live raga bascio un po' allora guardo da qui da là non si vede? guarda quanto è stata nella sala d'attesa? che cazzo è? the stranding? ah vabbè robe per vr giustamente è appena uscito il vr ragazzi bacio un po' tanto ci sono i sottotitoli è uscito il vr2 ragazzi per la play ovviamente molto in sordina perché ovviamente nessuno è una tecnologia secondo me ancora un po' troppo costosa perché costa quanto una Playstation 5 il vr2 costa bei 500 euro che poi in realtà sono soldi che spenderei sinceramente il problema è che non ci sono giochi ragazzi magari qui ne vedremo di giochi interessanti cioè questo già potrebbe essere interessante perché mi ricordo Spider Witch buonasera 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 non credo pochi giochi valgono l'acquisto della console secondo me uno di questi è Zelda ovviamente per la Switch cosa sta aspettando Daxin a comprare la Switch vabbè vedete non è male non è male non è male come sembra carino come gioco non è una killer up almeno per me cioè non giustifica appunto l'acquisto del VR però quello che per mandare avanti le periferiche cazzo Sony spero tu l'abbia capito devi farci uscire i giochi ed è la PSP che non hai capito che devi farci uscire i giochi sulle console che proponi ve lo ricordate il PSP phone pace all'anima sua che è durato un mese nel 2008 se non sbaglio minchia che ricordi avevo 16 anni ragazzi ancora pensavo che il mondo fosse un mondo un posto bello questo cos'è Horizons no non è Horizons che è ah un survival beh vedi eh vedi già già c'è più verità di giochi già mi piace già mi piace bisognerà vedere quanto tempo si sbocca con questi giochi mentre uso il VR è Grinell è vero lo ricordo un po' ma è proprio lui è proprio lui qua c'è un momento di ayahuasca perché ha bevuto gli acidi sembra anche mezzo horror mezzo psicologico intrippato vedete è Grinell ok Grinell VR ok buono a sapere ci sta infatti si Grinell è mezzo horror quindi ci sta cazzo è The Stranding Dreams The Stranding in VR Grinell Grinell l'ha ben giocato anzi l'ha giocato Dino quando ancora non c'era la cooperativa però è sempre stato un gioco che non punta tanto sul survival punta molto sul punto sul thrill sul mindfuck sulla trama fottuta di cervello questo sembra super hot super hot però senza i binari c'è comunque per carità io sono dell'idea che la realtà virtuale sia una parte di futuro per quanto riguarda il videogioco però c'è a meno ma allora io sono tentato di prenderlo un visore vi dico la vedo devo capire se prendere quello della Sony o quello o Rift no Rift scusate ma mi chiede il Quest 2 quello senza fili di meta quello da PC che poi non è da PC perché puoi usarlo ovunque puoi usarlo in streaming essendo senza fili però ragazzi a parte il fatto che comunque sono 500 o 400 sono comunque tanti soldi sono soldi che magari spenderli così in un mese si potrebbe si potrebbe investire in altro però è comunque una roba che vogliamo approfondire vogliamo approfondire vogliamo approfondire ne parleremo molto in futuro magari magari inviteremo anche qualche ospite per parlarvi ospite che ne sa più di noi per parlarvi di realtà virtuale perché comunque penso sia una parte di futuro soprattutto soprattutto le integrazioni che sta avendo meta perché tutti insultano meta per come sta affossando Instagram però sul meta multiuniverso sul meta universo sta facendo grandi cose tipo che potete fare anche colloqui di lavoro in meta lo sapete che in meta va assume tramite potrebbe anche assumerti tramite visore ci sta ragazzi ci sta è un futuro che probabilmente vivremo i nostri nipoti probabilmente lo vivranno durante la loro adolescenza un futuro del genere quando sarà di mass ovviamente perché per ora è abbastanza costosa metterla integrarla ovunque in la realtà virtuale fondamentale però comunque non sono brutti giochi sono giochi che stanno iniziando ad avvicinarsi al parco titoli VR che c'è su PC perché su PC c'è un parco titoli VR della madonna tipo al flight fa Alex vale l'acquisto di un VR su PC è un'avventura grafica no questo qua è quello del è quello del loop come si chiama è quello del loop non me lo ricordo giocare in VR questi giochi deve essere un'esperienza psichedelica non so se quello è il loop ragazzi sto cercando di leggere la chat per vedere se quello sapete ma non lo so se è lui penso di no penso sia una roba proprietaria comunque vorrei anche arrivare a un punto perché dura un bel po' lo set of play bafta vabbè saranno quei giochi emozionali per carità nulla da dire eh però non lo so questo che cazzo è war sembra warframe no c'è la destiny che cazzo è si è un gioco online comunque ci vede si vede l'animazione che è un gioco online è destiny si è destiny quindi possiamo ah questo qua era lo zenta indiano allora vabbè uncharted flexion un po' flexion un po' i loro giochi ci sta ma un gioco grosso no che sta che sto che sto incubo vorrei dire qualcosa ma non questi sono i miei sogni quando i miei sogni dopo il pranzo di natale ragazzi dopo che stai digerendo le lasagne tutto la musica è quella mi ricorda echo chrome è un echo chrome fatto di steroidi ve lo ricordate echo chrome su pc cioè ragazzi un gioco per cellulare ma in VR ma perché perché dovete sempre disciare ragazzi magari cioè è talmente strano che fa il giro e sembra interessante mei 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 come si chiama non si sa ah io vabbè l'abbiamo visto prima non me lo ricordo già più che ah quello dei furri come minchia si chiamava vabbè questo l'abbiamo visto 3000 volte ragazzi come non mi ricordo come si chiamava ragazzi lei vada un po' avanti ah si si vabbè è lui non mi ricordo manco il nome vabbè comunque l'abbiamo già visto mille volte lo ficcano sempre in ogni in ogni set of place ragazzi di gioco naruto attenzione vabbè ma non è appena uscito ninja storm io ci giocavo su quello su ps3 quanto era figo quello su ps3 però mi sono rotto il cazzo sono cresciuto ragazzi purtroppo si cresce ma lo dico ma non perché è naruto lo dico anche per i lo dico anche per i giochi di dragon ball perché io l'ho comprato caccarot comprato caccarot ma mi son cagato mi son cagato il cazzo dopo la saga di freezer cioè dopo la saga di freezer mi son cagato il cazzo sono giochi sono giochi per carità nulla da dire però un po' però vabbè comunque ninja storm ragazzi è una serie storica è uscito è uscito quello nuovo a chi interessa andare avanti bello youtube ah vabbè street fighter kishene che poi tutto lo state of play doveva essere basato su street fighter l'ha messo alla fine cioè non kishene gli appassionati di street fighter si saranno facendo segoni a quattro mani però io sinceramente nella mia deriva picchiaduro ho giocato di più a mortal kombat street fighter l'ho giocato veramente poco anche perché è molto più tecnico di mortal kombat mortal kombat ci piaceva di più perché era tamarro ammettete premevi pochi tasti facevi il mondo street fighter doveva essere bravo per vincere che è tutto che è tutto così vero si è tutto street fighter ah fermi risentivo risentivo fermi fermi che tra l'altro esce il mese prossimo se non sbaglio esce ad aprile vabbè remake ragazzi e leon c'è eccola è lei è lei quella che ci fa ma leon leon appena finisce sto cazzo di street fighter ecco posto trovato risentivo 4 ragazzi c'è lo stesso livello del del 2 prendetelo comunque i remake di risentivo sono di qualità eccelsa secondo me poi il 4 è anche uno dei migliori Christ leon dai mettetela non potete non metterla bellissimo ragazzi veramente bello cioè è resident evil che cazzo chiediamo di più eccola che ricordi minta resident evil 4 forse è anche il migliore adesso che ci penso resident evil 4 è quello più significativo resident evil 4 leon dillo è vero che c'è il vero il spagnolo si venisse in spagna risentivo il cuore bebe bello bello ragazzi tra l'altro il range line veramente veramente un motore grafico contro secondo me molto action come il gusto che sia eccolo eccolo l'ha detto però non era lei non è la bionda che lo spam permette a gioco l'ha detto ragazzi l'ha messo bravi mercenari che è vabbè a marzo non aprile ok marci marci 24 24 marci special demo the demo come è da torinese torno un attimo indietro che non ho letto sotto cazzo ha detto perché voglio capire se esce anche su pc eh cazzo mi ricordava aprile no e allora pssi esclusiva esclusiva presumo temporanea come lo sono stati tutti i remake comunque per ora esclusiva sony ragazzi ps5 ps4 esce a marzo minchia mi ricordava mi ricordavo fino aprile invece cazzo vedete fra un mese ci abbiamo un'altra possibile horror night da portare ragazzi beh dai dai cisti 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 che poi in realtà di roba nuova mi sa che non è che hanno fatto vedere più di tanto ragazzi questo qua è coso quello della from software armored core tipo avete visto che cazzo ha detto mia zaki che cazzo ha detto la from che sono al lavoro soldering 2 perché perché ragazzi perché dovete fare perché dovete fare l'errore di the souls perché perché mia zaki perché comunque no non è non è non è armored core ecco è justice league questa è harley queen ma ma perché la cambiano le cambiano le cambiano sempre le queen ogni gioco suicide squad che è justice league suicide squad vabbè dead shot flash vabbè vabbè tutti i fan della dc staranno sbavando ragazzi io sinceramente la dc l'apprezzo però c'è anche lì i giochi giochi per supereroi gli ho un po' che è ah stanno parlando ok stanno parlando di suicide squad vabbè ragazzi se vi interessa poi venite a vedere i trailer da soli comunque vabbè è praticamente hanno possiamo dirlo apertamente hanno preso spunto dal gioco dei guardiani della galassia e hanno fatto un gioco suicide squad ci sta comunque la qualità non sembra brutta sembra comunque un gioco carino bello action dove puoi usare harley queen puoi fare quel cazzo che vuoi non so non ho capito se è online cooperativo comunque vabbè c'è gotham c'è gotham c'è flash ci sarà il joker perché ormai lo mettono ovunque il joker il poveraccio lasciatelo impazziridere in manicomio da solo ah c'è pure brainiac così a caso e niente ragazzi vediamo vediamo se parlano di altro niente playstation no niente vabbè e niente vabbè quindi vr street fighter ci hanno ricordato che esce complimenti signorina per questi occhi con i colori diversi con questo frame incredibile che sono riuscito a beccare comunque vabbè chiudo quella signorina che mi sta turbando ok e niente ragazzi hanno parlato di questo abbia riasciunto lo set of play sì lo street shark quattro pinne all'orizzonte quattro pinne al frutto l'orizzonte chi pensa di vincere al gothi quest'anno allora secondo me è ancora presto per pensare al gothi perché ragazzi siamo non c'è un manca marzo tra l'altro non c'è un manca marzo e e non spero spero non ho wars legacy anche perché quest'anno escono molti titoli sulla carta molto più validi sulla carta almeno bisogna poi vedere come usciranno cioè già che già che esce zelda a maggio ragazzi fermi tutti già wars legacy viene bello che oscurato secondo me poi vi ricordo che esce anche spider man 2 autunno spider man 2 esce anche starfield che va bene microsoft va bene quello che volete però comunque è un gioco enorme della bethesda potenzialmente potrebbe essere un tra virgolette nuovo il the scrolls un il the scrolls nello spazio quindi potrebbe avere una potenza mediatica non indifferente quindi ragazzi non lo so è difficile dirlo con certezza i goti ragazzi i goti i conti dei goti si fanno a novembre a metà novembre rifatemi sta domanda e vi dico che vince adesso è inutile pensarci è inutile è inutile pensarci adesso secondo me già preso solo gli universi di spider man e batman narca ma allora la sony con spider man dell'insomniac si è superata perché veramente se non l'avete giocato visto che uscirà il 2 e magari avete appena comprato una ps5 siete in procinto di comprare una ps5 come giochi per sverginare una ps5 vi consiglio molto anche lo spider man il primo spider man della sony perché è veramente un gioco bello un gioco veramente secondo me da otto e mezzo forse si avvicina anche al nove per alcune cose veramente un gioco ben fatto otto otto e mezzo otto e mezzo dai non mi sbilancio più di tanto e poi esce il 2 quindi potete giocarvi l'uno e poi successivamente quando esce il 2 vi giocate il 2 che sarà che continuerà batman nell'universo di arkham knight arkham asylum minchiaia a me batman sono sui coglioni però minchiaia quanto cazzo sono fighi quanto cazzo è figa la trilogia di arkham su ps3 ragazzi quanto cazzo è figa paradossalmente quello che mi è piaciuto meno è quello con la batmobile che è l'ultimo se non sbaglio perché quello con la batmobile non è che sia un brutto gioco però dei 3 è quello che mi è piaciuto meno quello che mi è piaciuto di più ragazzi ovviamente l'immortale il leggendario arkham asylum che è inarrivabile quel gioco è inarrivabile quel gioco ha creato degli standard per i giochi action prima di quei di arkham asylum i combattimenti action non erano così andatevi a vedere i combattimenti action di arkham asylum tipo nel 2008 2009 quanto cazzo adesso ve lo faccio un po' di di storia videoludica quando è uscito arkham asylum allora no su amazon voglio sapere quando è uscito ps3 qua c'è multiplayer c'è una data data d'uscita 2009 29 28 agosto 2009 voto multiplayer 9 ah non gli avete dato 9.2 gli avete dato 9 però minchia a cosa gli date 9.2 a a missia a missia a batman arkham asylum ragazzi è un gioco una pietra miliare è un gioco importantissimo perché ha creato nuovi standard per i giochi action soprattutto per quanto riguarda il combat system combat system all arkham l'ha inventato lui quindi c'è poco da dire ragazzi c'è poco da dire io non apprezzo batman non mi piace per niente batman anzi mi sa particolarmente sui coglioni batman perché è forte solo perché è sciolti è forte solo perché c'ha i poteri forti dalla sua parte però comunque c'è da dire che nonostante il personaggio cioè sono una trilogia fantastica arkham city è quello di mezzo se non sbaglio il 2 arkham asylum arkham city arkham knight arkham asylum top top del top forse un gioco un gioco da 9.2 veramente 9.5 però i nostri 9.2 sono veri arkham city è anche bello che se non sbaglio c'era anche la la missione segreta di moon night del secondo robin che era figa che dovevi fare un casino poi c'era anche le robe dell'enigmista arkham city è anche bello un bel gioco che riprende molto anche di arkham knight arkham asylum scusate arkham knight che è l'ultimo quello con la batmobile anche quello bellissimo gioco però non mi è piaciuta innanzitutto come hanno introdotto la batmobile che è un po' troppo cioè hanno messo come grande novità la batmobile però l'hanno messa troppo cioè troppo dove un po' stuccava quel ragazzo di macchina poi non mi è piaciuta come si svolge l'esplorazione perché arkham knight tutto il gioco si svolge in una sola notte tutto il gioco è una sola notte una sola notte a gotham quindi diciamo che ci sono delle vicissitudini che non vi spoilerò perché ci sta magari volete giocarlo per i cazzi vostri però non mi è piaciuto bene però comunque rimane un gioco da più di otto e mezzo supereroe preferito è difficile a me piacciono i villain ragazzi non piacciono gli eroi perché da piccoli ti fate per gli eroi ma da grandi si ti fa per i villain supereroe preferito non so dirvi ragazzi cioè proprio non so proprio dirvelo perché magari mi piace spiderman per una cosa poi mi sta sul cazzo per un'altra mi piace superman per una cosa io potrei dirvi superman so che una so che una roba sembra una roba banale però io reputo superman come supereroe come simbolo proprio come un simbolo lo reputo perché è stato il primo supereroe quello che ha creato il concetto di supereroe negli anni 40 è vero che ormai è banale superman se lo si vede con gli occhi moderni però in realtà io lo vedo più come un simbolo un simbolo superman è proprio quello che ha creato che ha creato il supereroe fumentistico come lo conosciamo infatti il mio villain preferito non è joker perché io sono dell'idea che joker è sopravvalutato come villain joker è stato rivalutato solo dai film soprattutto da nolan e da coso e da hit ledger diciamolo perché joker è un grandissimo villain ma secondo me la dc ha molti villain migliori lo posso dire l'ho detto e il villain migliore della dc secondo me è Lex Luthor perché Lex Luthor è un villain con i controcoglioni andate a leggervi non mi ricordo come si chiama il racconto quel racconto dove superman se ne deve andare dalla terra che quindi deve salutare tutti i suoi affetti e va persino a fare un monologo con Lex Luthor cioè ragazzi Lex Luthor per me è il villain perfetto perché lui pensa di essere un benefattore lui non sa di essere un villain lui dice io sono un benefattore io faccio queste cose qui per un bene superiore voglio salvare la terra e quello è il vero villain ragazzi quello è il vero villain non quello che ride e mette le bombe vuole l'anarchia cioè dai prendiamoci chiaro prendiamoci chiaro una sola notte al cinema esatto tutti i giochi di Arkham sono in una sola notte anche il primo non me lo ricordavo ragazzi forse devo rigiocarmeli ma no nel primo non c'era anche il DLC dove era giorno ragazzi alla fine sì Arkham si sviluppa così in una sola vigilanza però vedete con me che nell'ultimo sta cosa era molto più pressante c'era quel cazzo di fattore di continuare ad andare in giro con quella cazzo di macchina che un po' spezzava gli Arkham erano belli appunto perché potevi volteggiare col mantello c'era un po' più di libertà con quella cazzo di Batmobile però hanno un po' spezzato sta roba e appunto condensato tutto in un solo turno di vigilanza mi dava fastidio però sì effettivamente erano tutti in una sola notte sono un cretino sono un cretino pelatone effettivamente anche lo spaventapasseri secondo me potrebbe essere superiore al Joker poi dipende io penso al Joker fumettistico perché ricordiamoci che comunque si bisogna pensare prima ai fumetti prima che i film perché i film sono in trasposizione forse l'unico Joker l'unico Joker bello che può battere quasi tutti i Villain è Killing Joke quello quell'albo lì però alla fine il Joker come concetto di Villain è un po' per carità ci sta ci sta l'anarchico il chaotic evil il cattivo che vuole 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 il caos non vuole nel potere non vuole nulla Joker vuole solo il caos Joker non vuole non vuole né potere né soldi vuole il caos il caos puro l'anarchico ci sta però sinceramente preferisco qualcosa di più di più raffinato secondo me l'ex lutor è più raffinato come Villain Deathstroke Deathstroke anche ci sta come Villain anche il folletto il folletto quello che ha nomi con tutte i consonanti Mr. Big Zigly Big Zig che era un nemico di Superman sapete l'unico modo per uccidere Mr. Zigly Big Zig fargli dire il suo nome al contrario e super tra l'altro lui usando la magia quel Villain lì quel Villain lì e poteva fare del male a Superman perché l'unica cosa che può ferire l'uomo d'acciaio è la magia e la kriptonite quindi c'è tanti Villain belli la DC purtroppo la DC è meno in auge adesso perché i fumetti sono in una deriva un po' statica perché diversamente dalla Marvel fanno altre cose poi io non sono assolutamente un esperto di fumetto americano quindi non ne so un cazzo i film della DC lasciamo perdere lasciamo perdere non entriamo nel merito che poi anche quelli della Marvel magari sono di qualità opinabile però comunque almeno spostano i milioni e comunque sono film che la gente si va a vedere quindi purtroppo la DC è un po' abbandonata da se stessa il problema è che c'è veramente c'è veramente un botto di materiale cioè il cazzo di Joker che ha fatto che ha fatto Gioacchino Fenice ragazzi cioè avete visto che cazzo di potenza di film è uscito impegnandosi un po' prendendo un villain della DC e facendo una cosa un po' più diversa dal solito e non il solito cinecomics cioè non ci vuole tanto infatti è pure un film a basso budget tra virgolette Joker non ha il budget di Justice League e di Endgame cioè per dire basta un foglio e una matita per fare una trama sensata secondo me Andrew ci porta Surriver troppo vecchi troppo vecchio The Python troppo vecchio la gente non apprezzerebbe a noi ci piace perché siamo cresciuti con Surriver però è troppo vecchio se facessero dei cazzo di reboot si svegliassero porco Jude si svegliassero a fare un cazzo di reboot la serie Gotha molto bella con Ryan Doshi tra l'altro che fa il commissario Gordon ma è sempre fatto morire sta cosa che c'è Ryan Doshi a Gotham grazie Federico grazie per il Prime grazie In Scripture l'ho provato ma non mi piace ragazzi c'è neanche che non mi piace penso sia un gioco un po' anti live perché un gioco di carte per carità c'ha dei picchi di anche di horror in realtà c'ha dei picchi di tensione anche non indifferenti però non penso che quella torre fa sempre stesse smorfe minchia si è proprio è proprio il prototipo dell'attore Chad che ha due 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 fa ha il mascellone e due tipi di facce quello da fregno quello da super fregno però ci sta come commissario Gordon comunque non è un cattivo attore il problema è che sono attori inespressivi buonasera buonasera Federico salve salve grazie per il prime questa tua giornata si si è una ragazzi la si vede non è non è non è speculare no non è speculare perché non c'è in su discord è l'A di l'A di acqua cazzo vedi è l'A di acqua abbiamo trovato il meme ragazzi abbiamo trovato il meme incredibile incredibile comunque ragazzi a parte vabbè a parte che dobbiamo fare sto gioco stasera manca poco manca poco mancano mancano più o meno più o meno meno di 100 sub mettiamola così ho provato a fare il conto ma non ce l'ho fatta quindi ce l'ho rinunciato significato se posso chiedere è l'A di acqua ragazzi è l'A di acqua 3 ore di The Forest ragazzi 70 sub grazie 70 sub e facciamola 3 ore di The Forest non penso ci arriveremo prima di lunedì però noi comunque la faremo perché prima un po' ci arriveremo 3 ore belle belle di The Forest e niente purtroppo ragazzi Andre come si entra su Telegram è un po' probabile tra un po' probabile faccio la sub e niente appena sei subbata basta che clicchi il link verrai spostato o spostata in una chat dove il nostro bot ti scruterà controllerà se sei abbonato o abbonato al canale se sei abbonato ti fa entrare tranquillamente nulla di tanto complesso poi state tranquilli se casomai vi dovesse scadere e il bot vi da un 24 ore di tempo 24 ore di tempo va avvisa è scaduta la sub poi vabbè se vi butta fuori chi se ne frega ragazzi chi se ne frega non è che siete costretti a sabbarvi sempre quando potete quando volete darci un aiuto lo sapete che che non è non è assolutamente una roba obbligatoria la sub se volete farlo non sentitevi cioè non sentitevi perché Emdal è molto minaccioso ve lo dico Emdal quando sta per scadervi la sub è molto minaccioso perché lo dice anche a me ragazzi cioè io che sono il suo bot father io quando entro su tele che lancio a bot father c'è Emdal perché l'ho creato io Emdal l'ho creato io col bot father ragazzi i figli i figli che minacciano i genitori dove cazzo siamo arrivati comunque domani super live ve lo ricordo super live con Andrea del 1988 siateci 21 e mezza come al solito scusate ancora per oggi ragazzi ma è andata così fa niente ci rifaremo lunedì domenica noi comunque ci rifaremo sempre la nostra live di progetto zonboid doppio progetto zonboid così Andreina magari crepa domenica lunedì a sto punto ragazzi sono up the forest con un po' di tre giorni di ritardo ma purtroppo è andata così grazie ragazzi scusateci veramente grazie comunque per non aver telato la live grazie comunque per il supporto che ci date grazie per tutto guarda senza di voi senza di voi starei già lavorando in banca senza di voi no sto scherzando mai lavorare in banca perché non si può far carriera in banca inizi a uno sportello e finisci a quello sportello basta ci vediamo domani ragazzi siateci siateci